Oggi parliamo di turismo delle radici facendo un focus dettagliato su questo target di cui abbiamo sempre accennato ma di cui vi possiamo anche dare una ottima notizia sempre e solo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo il centro e territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 12 giugno 2023. Come avete visto intro cortissima sì perché oggi voglio darvi un po' di informazioni in maniera dettagliata su cos'è questo turismo delle radici. Ne abbiamo parlato chi in più di un'occasione ha seguito anche i vari link e magari anche qualche presentazione diciamo in maniera generale di quello che è stato fatto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero del Turismo, un po' meno dal Ministero della Cultura ecco che entriamo in un mondo molto particolare perché è un turismo che potremmo definire quasi un turismo estero però è un turismo che ha un forte legame con l'Italia e l'anno 2024 sarà l'anno delle radici italiane una sorta di anno internazionale dove vogliamo portare tutti gli oriundi e non solo vedremo a rientrare in Italia per raccontare loro stessi il loro viaggio, le loro traversie o quella dei padri, dei nonni e ricongiungerci, ricreare una sorta di Italia unita nonostante i chilometri di lontananza e gli anni passati. Spesso quando si parla di turismo delle radici si fa riferimenti a casi internazionali in particolare in America, in Canada poi ci sono dei casi fortunati in Europa come in Irlanda ma l'Italia realmente non ha mai affrontato questo tema in maniera dettagliata e in maniera scientifica solo alcuni antropologi hanno affrontato questo tema con i loro strumenti ovvero gli strumenti dell'antropologia, l'osservazione partecipata del rientro di alcuni oriundi dall'Argentina piuttosto che il Brasile o anche solo dalla Germania e questo non ha permesso però un'analisi scientifica quantitativa che è stata fatta in Italia solo negli ultimi anni ma iniziamo ad entrare nel dettaglio partendo da che cos'è il turismo delle radici in particolare vi voglio leggere questa definizione il turismo delle radici è il turismo generato dai migranti che si recono in vacanza nel paese d'origine spesso dopo esserne stati lontano per lungo tempo o dai loro discendenti che vogliono visitare e conoscere la terra di origine della loro famiglia il viaggio e il relativo soggiorno nella terra natale costituiscono un'esperienza ad alto contenuto emotivo per i primi rappresentano infatti l'occasione per rivedere i propri cari e soprattutto ritrovare i luoghi che hanno segnato la propria vita prima di partire per i secondi diventa un modo per ricercare le proprie radici e scoprire i luoghi in cui hanno vissuto gli avi specialmente per coloro che hanno perso in parto totalmente il legame con la terra d'origine beh questo è molto importante perché questo è importante perché si innesca prima ancora di un discorso puramente economico geografico quindi spaziale e legato alla spesa un discorso prettamente antropologico ovvero andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando stiamo parlando in realtà di una situazione che si innesca sulla generazione ovvero la prima generazione quella che deve lasciare la propria terra per problemi economici per le difficoltà di rimanere spesso in quelli che oggi noi chiamiamo borghi ameni dove le piccole realtà le aree interne negli scorsi anni erano aree marginali aree dove l'Italia era in una situazione disastrosa ecco che allora la persona era costretta ad emigrare e se vogliamo cancella una parte di sé cancella le sue forme più più paesane per cercare di avvicinarsi a quel mondo che non conosce e quindi parte spesso non ha mai visto il mare sale su queste navi parte e se le navi arrivano a destinazione ricordiamoci che anche famose navi come il Titanic affondano ok ma se arrivano a destinazione e qui sto parlando solo della grande emigrazione ma anche le piccole emigrazioni hanno tutta una serie di problematiche ma ovviamente nel nostro immaginario la valigia di cartone e la nave sono alla base in particolare nel sud nel sud Italia e ci arriveremo a capire anche questa parte quindi partono arrivano in un continente o in una in un altro stato che parlano un'altra lingua spesso gli italiani anche ai primi del novecento parlano più dialetto che italiano e quindi cosa fanno? propongono promuovono dicono come il loro nome utilizzando appunto la loro lingua che non è neanche l'italiano e cosa ne esce? Nesce delle trascrizioni assolutamente fonetiche per quello che riescono a capire quelle persone ecco perché allora vi dico che la situazione è diciamo così complicata e non basta semplicemente dire vogliamo riavere queste persone anche perché hanno dovuto lottare per essere riconosciuti come parte di quella comunità di cui sono ospiti pensiamo a Marcinelle pensiamo alle appunto ai lavori più umili no? qui non sono ammessi i cani e gli italiani questo è quello che hanno patito però hanno reso costantemente grande l'Italia per il loro ingegno pensiamo qua vicino sul nostro lago d'Orta gli scalpellini di Madonna del Sasso gli scalpellini di Gravellona Toce che creano la diga di Assuan ancora oggi quella diga non solo è in piedi ma definisce uno dei tratti salienti dell'Egitto eppure questa parte sembra essere scomparsa nei radar poi delle attività promozionali eppure loro tornano perché non li abbiamo visti e in più cosa è importante cos'è che rende questo turismo diverso da tutti gli altri proprio l'alto contenuto emotivo allora vi leggo qualche frase di alcuni turisti delle radici ovvero nostri oriundi che sono andati in questo caso il lavoro è stato fatto dall'Università della Calabria su il target argentino l'Argentina è la più grande realtà che ha accolto gli italiani ma è interessante vi porto appunto due letture due pensieri che sono interessanti mi sembrava che mia nonna fosse con me mentre guardavo la chiesa di cui mi parlava beh ovvio la gente è partita da paesi la chiesa era un fulcro importante di quelle realtà vedere la casa dei nostri avi crea qualcosa che sono o ricordi o ricordi tramandati il lungo filo della tradizione sono quelle cose lì no sono quel sentore che ci fa ancora inorgogliere della nostra patria e poi vi porto un altro esempio invece in Australia ed ecco che dice in Australia la mia generazione insieme a quella precedente ha sofferto e alcuni stanno ancora facendo i conti con il loro senso di identità ho lottato per la mia identità e ho finalmente trovato pace e accettazione anche riguardo agli attributi incredibilmente positivi che il mio patrimonio calabrese mi ha dato ecco queste sono le cose che vanno cercando queste persone non le bellezze certo ci sono anche quelle non il viaggio spettacolare non il sogno ma un riappacificamento con la terra natia se non prendiamo in considerazione questo quindi l'essere l'ultimo anello di una catena questo le antropologi lo avevano capito molto bene già dieci anni fa ma come al solito se non si portano degli esempi anche quantitativi numerici e degli esempi anche economici si rischia di avere una percezione e non una realtà consolidata e allora ecco che diventa interessante vedere la situazione odierna e la situazione odierna la descriviamo in questa maniera c'è un'Italia fuori dall'Italia disseminata nel mondo moltissimi italiani hanno lasciato il paese al quale vogliono ritornare perché è qui che sono costuditi le loro radici essi hanno trasmesso questo orgoglio identitario alla generazione successiva figli e nipoti che sulle orme dei loro avi vogliono ritrovare l'eredità italiana e recuperare quel senso di appartenenza ad una terra che non è solo quella dove risiedono ora ma è quella in cui ha vissuto la propria famiglia e i dati sono interessanti si parla di circa 80 milioni di oriundi italiani con storie speranze vite vissute ma hanno anche un'anima sospesa tra la terra che li ha accolti e la terra d'origine ed è quella sospensione che vogliono colmare è lì che cambia la situazione ma allora perché in italia non se ne è parlato beh partiamo da un problema il turismo delle radici in realtà ha nomi assai fuorvianti o comunque ha diverse denominazioni e questo crea un po' di problemi partiamo da il turismo più vicino dalla forma di turismo più vicino che è il turismo ancestrale così viene chiamato spesso in America o turismo delle radici o turismo di ritorno delle origini o turismo di ritorno beh questi tre termini possono tranquillamente essere utilizzati come sinonimi ad esempio la CIM che è uno degli organismi che ragiona sulle comunità italiane all'estero ci dice utilizziamo più turismo di ritorno più che di turismo delle radici perché ormai gli oriundi sono sempre meno quindi la ricerca delle radici è sempre più difficile ma in realtà gli antropologi ecco perché vi ho fatto una parte specifica poco fa sul turismo sull'idea di antropologia del ritorno alle origini perché in realtà ci troviamo e adesso lo vedremo con dei dati in cui i giovani minori di 18 anni sono uguali alle persone che hanno più di 75 anni in percentuale quindi non è un turismo fatto di vecchi come potremmo pensarlo per cui ancora per qualche anno ci sarà questa storiella poi tutto finirà in fumo no perché tra l'altro è un turismo in continua rigenerazione e adesso ci arriveremo di sicuro è un turismo nostalgico sentimentale anche qui questa idea della nostalgia della nostalgia della terra della propria casa della propria comunità è un turismo della memoria beh ma ci sono già anche altri turismi della memoria pensiamo al turismo legato ai fatti della seconda guerra mondiale della Shoah eccetera il turismo della diaspora anche qui un altro termine che richiama però anche altri tipi di turismo quindi non siamo in questa situazione c'è poi il turismo genealogico e qui c'è un problema il turismo genealogico però è solo una parte del turismo delle radici ovvero di quelle persone che vengono in una determinata destinazione per ricercare proprio l'albero genealogico e basta mentre il turismo delle radici è molto più ampio è un turismo dove magari la genealogia non ci serve neanche perché sappiamo benissimo da dove veniamo e da quale ceppo familiare deriviamo e quindi siamo alla ricerca di qualche cos'altro anche solo del vedere il cambiamento del paese in cui era partito il nonno e sicuramente non è legato ai visitor relatives and friends visita a parenti ed amici non è da confondere perché lo dico così perché in realtà in Italia questo lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto creando non pochi problemi quindi andiamo a vedere cosa è successo in particolare dobbiamo partire da una ricerca del 2008 Enit ovvero ci troviamo nel 2018 nella situazione pre pandemia si incomincia a voler aumentare gli arrivi i turisti eccetera per avere una maggiore permanenza cosa sempre auspicabile nel turismo ovviamente con le virgolettate sull'over tourism ovvero cerchiamo di non superare la capacità di carico di una destinazione ma la cosa interessante è che la ricerca porta sia la Banca d'Italia i dati della Banca d'Italia piuttosto che altre ricerche a cozzare visitosamente con il turismo delle radici ovvero c'è della gente dei tour operator che nelle varie ricerche fatte dall'Università della Calabria dicono guardate che quel turismo di quella gente che torna nella propria terra della Natia è una percentuale molto elevata secondo i nostri dati piccoli ma che a questo punto dovrebbero essere analizzati in maniera più ampia ed aggregata magari su tutta Italia e i dati che Enit si trova di fronte sono dei dati legati alle tipologie di viaggio e alle motivazioni che non parla di turismo delle radici parla di vacanza di studio vacanze per cure termali viaggi di nozze visite a parenti ed amici famiglia parla di missione per lavoro parla di business travel parla di tutto ma non parla di turismo delle radici non parla parla di cultura parla di benessere parla di escursioni bellezza naturale di turismo sportivo ma non parla di radici ed è allora qui che inizia a porsi il problema all'Italia e tra l'altro questi 140 tour operator che lavorano in 22 mercati diversi stranieri in particolare segnalano appunto questa crescita e allora ecco che a Enit viene commissionata questa ricerca ed è interessantissimo siamo nel turismo di ritorno turismo delle radici nel 2017 si dice che il turismo questa tipologia di turismo in Italia ha dato origine a 670.000 arrivi di turisti provenienti dai principali paesi americani analizzati stiamo parlando della sola America ok per una spesa complessiva di 644 milioni di euro considerando la sola motivazione del viaggio visita famiglie parenti amici perché guardiamo solo questa motivazione perché gli stessi turisti delle radici che ovviamente sono stati intervistati in maniera qualitativa dall'università della Calabria non potevano che dire altro non c'era un'altra casellina da barrare banalmente nella ricerca ed ecco che allora diventa interessante chiudo con un altro dato per gli USA il turismo di ritorno rappresenta il 9,7% della spesa complessiva in Italia per il Canada e il Brasile il 7% per l'Argentina il 16,4% e allora dobbiamo andare ancora più nel dettaglio e vi invito a cercare di analizzare con me altri dati ancora stiamo parlando dei dati dell'anagrafe italiani nel mondo ovvero l'aere ok registrati residenti all'estero andiamo a vedere 5,8 milioni di italiani iscritti all'aere giovani sono il 21,8% e sono tra i 18 e i 34 anni quindi sono un bacino di persone molto giovani che sicuramente utilizzano i social quindi una maniera diretta anche per contattarli che hanno un bisogno specifico di riscoprire questo legame perché per loro è molto debole ok come per i minori che sono l'11,4% quindi i minori che hanno meno di 18 anni che hanno sentito il nonno o hanno sentito già i racconti dei padri che raccontavano il viaggio il viaggio del nonno e che hanno bisogno di da una parte scoprire il mondo quindi il viaggio classico la vacanza classica ma nello stesso tempo andare a cercare anche chi sono loro davvero perché perché è vero che ormai sono accolti nella loro terra che li ha accolti ma nello stesso tempo hanno quella mancanza quella situazione di sospensione maggiore rispetto agli altri che andiamo a vedere i giovani adulti tra i 35 e i 49 anni sono il 23,2% poco sopra i giovani gli adulti maturi tra i 50 e i 64 anni 19,4% e molto probabilmente sono quelli che più sentono il distacco e sono anche però quelli meno propensi a muoversi perché o hanno beneficiato almeno di un viaggio di ritorno quindi hanno negli anni passati fatto almeno un viaggio oppure vorrebbero non ricordare perché hanno vissuto da bambini quella problematica di essere accolti di dover affermare la loro identità e poi gli anziani gli anziani che il 21% ha più di 65 anni come i giovani e l'11,4% ha più di 75 anni come i minori quindi il turismo delle radici non è un turismo destinato a morire non è un turismo destinato ad accogliere dei vecchi con gli acciacchi come ho sentito in più occasioni dire e poi abbiamo ancora degli altri dati oltre 2,7 milioni che sono il 47% sono partiti dal meridione forse anche per questo motivo che il meridione ha sentito la necessità fondamentale di partecipare anche al bando idee turismo delle radici e circa il 16% dalle isole Sicilia e Sardegna più di 2,1 milioni quindi il 37% è partito dal nord Italia qui c'è un punto importante da sottolineare ovvero l'industrializzazione industrializzazione la crescita industriale il benessere sviluppato in particolare dal boom economico in poi e si iniziava ad avere già i primi sentori dopo il 45% quindi in piena ricostruzione ha permesso a molti di non partire nel nord Italia e teniamo presente che il centro Italia un 15,7% quindi è la realtà che più ha tenuto in realtà rispetto all'uscita delle persone verso l'estere verso mete estere ed è interessante perché tra l'altro se andiamo a vedere il 54,9% delle persone sono residenti in Europa quindi sono un tiro di schioppo se vogliamo dai nostri confini il 39,8% in America soprattutto nel centro meridione dell'America 32,2 gli italiani sono presenti in particolare in Argentina 903 mila circa e sono il mercato forse più interessante ma anche quello più in crisi parliamoci chiaro la Germania 813 mila non possiamo dimenticarcelo per il VCO la Svizzera la fa da padrone con 648 mila persone che risiedono appunto in Svizzera poi abbiamo la Francia 527 mila erotti ok persone quindi in quell'ottica anche il Brasile può essere utile e in una situazione un po' meglio dell'Argentina ma non di tanto e poi sempre per il Piemonte importantissima la Francia con 457 mila persone in sostanza il Piemonte vale il 5,8% dell'ammontare del 37% del nord Italia di persone che sono partite all'estero e allora come si accolgono e qui chiudo con l'ultima nostra riflessione per oggi e poi vi do una notizia bella che aspettavo tra l'altro da un po' di tempo è arrivata la settimana scorsa siamo molto felici ma torniamo a noi analisi SWOT ovvero punti di forza punti di debolezza opportunità e minacce di un turismo di questo tipo prima di tutto la minaccia pensare che questa gente venga per vedere le bellezze classiche di un turista estero sbagliato punto di debolezza un'offerta disaggregata un'offerta che non riconosce questo turismo sbagliato sbagliatissimo perché questa gente non vuole sentirsi chiamare turista il turista non ricerca le proprie origini la persona che ricerca le proprie origini vuole sentirsi parte di una comunità in particolare di quella comunità che ha dovuto lasciare in maniera più o meno forte perché se pensiamo alla prima generazione ovvero gli oriundi che sono partiti è ovvio che queste persone non sentono più forte sentono in maniera molto determinante la voglia di ritornare a vedere il proprio paesello i giovani ne hanno solo sentito parlare hanno un legame affettivo debole che va rafforzato ma attenzione gli stessi giovani gli stessi diciamo giovani fino ai 30 anni sono quelle persone che hanno anche una capacità di spesa che vogliono provare i prodotti della propria terra e qui diventa internazionalizzazione dei nostri prodotti diventa un'occasione di vendita all'estero dei nostri prodotti quindi l'internazionalizzazione classica la lasciamo da parte ma queste persone diventano perfetti ambasciatori dei nostri prodotti e per chi non ci crede il progetto che si sta sviluppando nel meridione legato all'olivocultura e il turismo delle radici quindi il turismo delle radici insieme all'olivocultura per un'internazionalizzazione attraverso proprio gli ambasciatori che sono persone che erano di quelle aree dove c'è l'olivocultura in altre aree del mondo sta portando risultati amplissimi interessantissimi anche quindi non dobbiamo pensare all'internazionalizzazione classica ma dobbiamo pensare all'internazionalizzazione attraverso queste persone le quali hanno vedono nel prodotto nell'enogastronomia locale della terra natia un modo per riaffermare la propria identità c'è una minore competitività tra i territori punto di forza grandissimo i borghi ora possiamo essere pro o contro l'idea dei borghi nel PNRR ma sta di fatto che il turismo delle radici è un turismo per quelle piccole aree cosiddette interne sostenibilità socio economica perché questa gente investe su quell'area perché era per ricordare il nonno pago il rifacimento della statua della chiesa della piazza e ne abbiamo di casistiche a bizzeffe soggiorni più lunghi perché loro hanno bisogno di poter analizzare quella terra che non hanno potuto vivere e quindi poter andare in comune incontrare il sindaco farsi una foto con lo stato delle nascite oppure del matrimonio minore stagionalità dei flussi maggiore propensione all'acquisto di prodotti tipici locali ne abbiamo già parlato interesse verso queste destinazioni minori una fidelizzazione forte che non è legata allo sconto che non è legata al parco giochi al parco avventure o a una specifica attrazione ma è una fidelizzazione ad una terra ok ruolo di ambasciatori e di investitori investitori forti ambasciatori verso le proprie comunità che l'hanno accolta dei prodotti locali investitori nella terra natia di gemellaggi ma non i gemellaggi classici folclorici ma di gemellaggi di lungo periodo con le comunità con il resto della comunità di persone che sono partite da quella terra nella terra di accoglienza ricordiamoci sempre un esempio in Piemonte l'associazione Linotri Linotri che è un'associazione che è partita dal ronco canavesano quindi dal canavese sono finiti in Francia e per quanto riguarda la commissione estera in Francia l'associazione Linotri siede nella commissione del senato legata al mondo estero agli interventi sull'estero alle commissioni per gli affari esteri un'associazione italiana Linotri allora davvero c'è un intreccio con varie forme di immigrazione e con altre forme di turismo perché proprio i giovani che hanno un legame più debole saranno anche più critici quindi dovremo saper collegare la terra natia che magari si è sviluppata certo ma non ha avuto le stesse potenzialità di altri centri più grossi ma di fare un bel lavoro di squadra fra centri minori e centri più grandi non c'è più il concetto di centro periferia ma c'è un concetto di continuità su cui va impostato l'intero lavoro culturale e turistico bene anche per oggi chiudiamo vi lasciamo con i nostri soliti social mi raccomando seguiteci partecipate con un commento vi lasciamo dei riferimenti ovviamente per queste analisi in particolare il primo report sul turismo delle radici che potete scaricare liberamente dal ministero degli esteri realizzato da Tiziana Nicotra e Sonia Ferrari io vi ho riportato alcuni loro dati ma c'è anche la professoressa Sinisi che ha fatto un lavoro sul turismo delle radici interessantissimo che è un bel libro per chi volesse affrontare questa tipologia di turismo a tutte le coordinate per farlo in maniera corretta vi lascio anche con una notizia ovvero Samuel Piana Land Explorer fa parte del gruppo che ha vinto sostanzialmente il bando idee turismo delle radici per il Piemonte con il gruppo informale Me Piemonte Radici Piemontesi quindi a livello locale Verbano Cusia Ossola Novara Bielle Vercelli avete un referente e lo vedete qua in carne ed ossa attraverso il video per chi per il resto del Piemonte ovviamente ci sono altre 14 persone come me che sono referenti sostanzialmente delle aree siamo 110 partner su tutto il Piemonte di cui ben 26 tra il Verbano Cusia Ossola e l'Alto Novarese quindi ci sono tutte le carte in tavola per fare un grande lavoro e per ospitare al meglio delle nostre potenzialità i turisti delle radici per l'anno nazionale del turismo delle radici l'anno delle radici italiane nel 2024 seguitici sui social cercateci iscrivetevi al canale seguiteli and explorer sui vari social e ci vediamo la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti